Tizzi facciamo gli auguri al Rimini Calcio Facciamo gli auguri al Rimini Calcio ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la tradizione Sport Up Ciao Rimini Calcio in bocca al lupo E allora andiamo ragazzi Allo stadio di Gorgonzola ma insieme alla seconda trasferta di stagione per il Rimini dopo l'amaro pareggio rimediato in cui è di Vicenza ancora una volta fatale alla squadra di Righetti la famosa remontada ogni qualvolta i biancorossi vanno sopra vengono puntualmente raggiunti e siamo già a quota 5 ma la gara inizia subito bene si travesti in fatto numerico da 7 e da 21 Simoncelli colora la traiettoria per la testa di Volpe che batte l'estremo di casa con un preciso colpo di testa regalandosi la seconda gemma in campionato il replay ci mostra proprio la prudezza dell'attaccante ex Frosinone l'inchino davanti ai tifosi biancorossi è dovuto Igiara risponde al diciannovesimo da un traversone di Jovine nasce il colpo di testa vincente di Lunetta che fa 1-1 davvero bello lo stacco di testa ad opera dell'attaccante in maglia bianco celeste numero 27 non è solo da colpe la difesa dei Rimini biancorossi che tuttavia non demordono Montanari scodelli in direzione Buonaventura Leoni esce a farfalle l'attaccante si ritrova il pallone che sbatte sul ginocchio ma termina lentamente al lato un giro di lancette più tardi Igiara va in gol ma viene considerata offside la posizione di Perna al momento del cross di Lanini Jovine dalla distanza 25esimo sceglie la soluzione senza fortuna ma al 34esimo la fortuna la trova Volpe che addomestica il pallone al di fuori dell'area di rigore e lascia partire un diagonale preciso che non lascia scampo a Leoni trovando il gol del nuovo sorpasso il reprei ci mostra la conclusione dell'ex Frosinone in chiusura di tempo i Rimini manchi tre con lo stesso Volpe su questo tiro cross di Arlotti l'attaccante manca la deviazione vincente ad inizio ripresa la Gianna viene fuori è la volta di Chiarello che sfiora la marcatura il Rimini appare stanco la difesa in bambola e qui Lunetta in sforbiciata va vicino al pari ma prova e riprova Igiara trova il meritato pareggio la conclusione di Chiarello viene ribattuta ma non quella di Perna che trova l'angolo vincente ristabilendo il risultato di parità in campo facendo letteralmente esplodere lo stadio di Gogonzola 2 a 2 il parziale lo stesso Perna prova a girarsi in area di rigore senza incidere senza trovare la porta al minuto 84 lancio di Variola per Bandini che non inquadra il versaglio provando la conclusione in corsa termina qui una gara ricca di emozioni con 4 gol all'attivo incerta la posizione tra i pali di Leoni mentre preoccupante la difesa dei Rimini specie nella ripresa la difesa 3 è da rivedere dato che ad ogni partita la squadra prende puntualmente gol cosa non da poco il migliore è Volpe 8 due gol di pregevole fattura e Guaya considerarlo una scommessa sempre più una piacevole in realtà di questo Rimini di testa e dalla distanza lo lascia a scampo a Leoni per la Gianna Erminio merita a Lunetta una particolare citazione lo stacco di testa e il tempo preso l'avversario sono da applauso puro ma Perna negli assist e nelle giocate non è da meno grazie